Allora, dobbiamo parlare di una questione. Vi ricordate la strage di Erba? Certo che ve la ricordate. Era l'11 dicembre del 2006. Vennero ritrovati quattro cadaveri. Raffaella Castagna, il figlio Iusef di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto il vicino Mario Frigerio. Dopo tre gradi di giudizio nel 2011 vengono condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Rosa e Olindo. Ieri la prima udienza di revisione del processo che si sono divisi tra innocentisti e colpevolisti. Revisione del processo che potrebbe riaprirlo anche se si è arrivati al terzo grado di giudizio. Allora, la prima domanda che ti faccio, Selvaggia, tu sei stata all'udienza ieri. La prima domanda è questa. Perché dopo tre gradi di giudizio si riapre un processo? Allora, intanto perché è stata chiesta e depositata quindi la richiesta di revisione dagli avvocati di Rosa e Olindo e da Kuno Tarfuster che come sapete ha avuto poi problemi per averla depositata non rispettando un determinato iter e quindi poi è stato sanzionato dal CSM. E già questo è abbastanza anomalo, ma non è l'unica anomalia che secondo me ha portato fin qui. Bisogna tornare, secondo me Luca, per ricostruire un po' le tappe che hanno riportato all'udienza, che hanno portato all'udienza di ieri molto velocemente alcuni passaggi. Cioè nel 2006 avviene appunto il pluri omicidio come hai ricordato tu, nel gennaio del 2007 Rosa e Olindo confessano ed è una confessione, l'avrete vista, una confessione piena, nitida, chiara. Ci sono poi le dichiarazioni spontanee a Picozzi, queste dichiarazioni incredibili, agghiaccianti, in cui Rosa dice più uccidevo più io mi sentivo sollevata, mi stavo liberando di un peso. Olindo dice a Picozzi quando uccidevo non provavo nulla, era come ammazzare un coniglio. Quindi delle confessioni terribili. Fin qui tutto a posto, diciamo così relativamente parlando. Nell'inizio d'estate del 2007, quindi pochi mesi dopo, Rosa e Olindo cambiano avvocati. Quindi arrivano degli avvocati nuovi e cambia anche la strategia. Loro ritrattano le confessioni, dicono abbiamo detto delle bugie, abbiamo rilasciato delle confessioni false perché siamo stati sottoposti a pressioni da parte degli inquirenti, ci avevano promesso che se avessimo confessato ci avrebbero fatto stare in cella insieme, insomma tutta una serie di quelle che io ritengo fantasie e quindi cambia completamente la strategia processuale. A quel punto cosa succede? Succede che assieme al team della difesa arriva anche una sorta di team della difesa mediatica dei due. Quindi salgono su questo carro dell'innocentismo anche tutta una serie di giornalisti che scrivono libri, che confezionano documentari, che realizzano servizi televisivi, insomma stiamo parlando non so del documentario La Verità che racconta appunto che Rosa e Olindo sono innocenti e che ipotizza che addirittura il colpevole sia Pietro Castagna, stiamo parlando del grande abbaglio, il libro di Montolli e di Manti, stiamo parlando delle Iene che hanno realizzato una quantità di servizi impressionante sul caso, con servizi che alle volte, Luca, puntate che duravano 209 minuti sul caso Erba, quindi stiamo parlando di tre ore e mezzo. Quindi capisci che tutto questo, diciamo tantà mediatico, a un certo punto inquina inevitabilmente il dibattito e secondo me si arriva dove siamo arrivati, anche perché, scusa finisco, sono stata un po' lunga, ma sai era difficile spiegare in poche parole perché si è arrivati fin qui, anche perché come dice il mio avvocato penalista Cataldo Intrieri, la verità è che i PM, i giudici, i magistrati sono persone come noi, fanno un lavoro eccezionale, ma poi arrivano la sera a casa, si siedono sul divano, si levano le pantofole e guardano quarto grado, le Iene, chi l'ha visto, insomma un po' di pressione mediatica la subiscono, magari non si convincono della innocenza di Rosa e Olindo, ma pensano, certo è che se io magari non, diciamo così, mando avanti determinate procedure, si penserà magari che io sia complice o che voglio nascondere qualcosa, voglio occultare qualcosa, ecco questo secondo me è quello che ha portato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.